ciao io sono chiara e benvenuti nel mio canale oggi realizzeremo questo bolero è un misto cotone microfibra il protagonista è il nuovissimo filato mondial primavera che ha queste sfumature meravigliose il bolero a questa fantasia sulla schiena se guardate nel dettaglio è contornato da dei piccoli cuoricini giusto per dare una nota anche romantica a questo bolero per quanto riguarda invece la chiusura sul davanti ho pensato a due idee una più pratica più semplice quella del nastro e l'altra invece di fare un cordoncino twist un cordoncino che si gira su se stesso poi lo vediamo a fine video vi lascio adesso al tutorial che è bello lungo non me ne vogliano le super principianti che però passo passo secondo me possono farlo anche loro anche se è un progetto un po più impegnativo quindi richiede qualche base dell'uncinetto però sapete anche che abbiamo attivato una fantastica scuola di uncinetto quindi non avete scuse e ci possiamo mettere subito tutti al lavoro ed eccolo l'abbiamo annunciato prima primavera eccolo qui guardate che sfumature e vi lascio nell'info box tutti i dettagli per andarvi a vedere anche le altre sfumature vedete come poi la gradazione del colore come si sviluppa si lavora con un 4 e 5 noi lavoreremo con uncinetto da 4 allora partiamo subito il filato ovviamente già sfumato di suo quindi dovete esclusivamente partire dal centro e prendere il vostro filato e andiamo a fare 5 catenelle che andremo a chiudere in cerchio naturalmente adesso andremo a lavorare all'interno del cerchio andiamo a lavorare 8 maglie alte intervallate da 2 catenelle la prima la sostituiamo naturalmente con 3 catenelle più aggiungiamo le 2 catenelle dello spazio dopodiché andiamo a lavorare le rimanenti 7 maglie alte all'interno del cerchio separato separate da 2 catenelle e naturalmente andiamo a chiudere nella terza catenella con una maglia bassissima adesso andiamo a lavorare negli spazi da 2 catenelle quindi ci spostiamo con una maglia bassissima e andiamo a lavorare 4 maglie alte la prima la sostituiamo con 3 catenelle quindi 3 catenelle e 3 maglie alte dopodiché 2 catenelle per separare il tutto e di nuovo entriamo nello spazio successivo nel giro precedente e andiamo a lavorare di nuovo queste 4 maglie alte e intervalliamo sempre con 2 catenelle naturalmente facciamo anche le ultime 2 catenelle l'ultimo spazio a 2 catenelle e chiudiamo il tutto sempre nella terza catenella delle prime 3 fatte adesso attenzione andiamo a lavorare così nel gruppetto da 4 andiamo a lavorare le prime 2 maglie alte poi saltiamo la terza facendo 2 catenelle lavoriamo l'ultima mentre nello spazio 2 catenelle andremo a lavorare 3 maglie alte adesso lo facciamo insieme e creeremo un gruppo da 6 allora 3 catenelle la nostra prima maglia alta lavoro anche la seconda 2 catenelle per saltare la terza e lavoro l'ultima del gruppo da 4 mentre nello spazio da 2 catenelle lavoro 3 maglie alte adesso vedete siamo di nuovo con questo gruppo da 4 lavoriamo le prime due saltiamo la terza quindi lavoriamo la prima la seconda del gruppo da 4 nel giro precedente 2 catenelle saltiamo la terza e lavoriamo l'ultima e poi lavoriamo anche nello spazio da 2 catenelle del giro precedente 3 maglie alte in questo modo tra i nuovi spazi di 2 catenelle avremo 6 maglie alte ovviamente completate il giro nella stessa maniera 2 catenelle salto vedete questo è il gruppo da 6 di cui vi parlo e quindi continuiamo a lavorare le 3 maglie alte nello spazio 2 catenelle e così via quando abbiamo finito il giro ci troviamo a metà del nostro percorso perché abbiamo iniziato a metà quindi saltiamo la terza lavoriamo l'ultima e naturalmente lavoriamo le 3 maglie alte nell'ultimo spazio da 2 catenelle andiamo a chiudere il tutto ovviamente con una maglia bassissima nella terza catenella ed ecco quello che abbiamo fino adesso il quarto giro semplicissimo andiamo intanto ci spostiamo nel spazio a 2 catenelle con una maglia bassissima facciamo un ulteriore catenella e andiamo a fare una maglia bassa dopodiché facciamo 8 catenelle e andiamo ad ancorarci direttamente nello spazio successivo con una maglia bassa quindi direttamente nello spazio successivo salto tutte e 6 le maglie andiamo a fare una maglia bassa quindi continuiamo così questo giro facendo questi queste 8 catenelle negli spazi e la maglia bassa quindi lavoriamo tutto negli spazi da 2 catenelle del giro precedente 8 catenelle maglia bassa e così via adesso lavoriamo in questa maniera sulle maglie basse una maglia bassa quindi una catenella e una maglia bassa per iniziare nell'arco invece da 8 catenelle andiamo a lavorare e 9 maglie basse musica Grazie a tutti. Una maglia bassa nella maglia bassa e di nuovo facciamo nell'arco di 8 catenelle 9 maglie basse e così via per tutto il giro. Chiudiamo con una maglia bassissima nella prima maglia bassa lavorata e questo è quello che abbiamo fino a questo momento. Adesso andiamo a lavorare proprio maglia bassa su maglia bassa e lo facciamo per 4 giri. Quindi semplicemente lavoriamo tutto intorno, una catenella, una maglia bassa, quindi maglia bassa su maglia bassa, ripeto per 4 giri. Naturalmente a fine giro andiamo a chiudere nella prima maglia bassa lavorata e così via. Se volete potete mettere un marker, visto che parliamo di maglie basse, potete mettere un marker e segnare il primo, la primissima maglia bassa che poi appunto sarà la chiusura del giro. Quindi vi ripeto, andiamo a fare altri 4 giri di maglie basse. Ecco quello che abbiamo finora avendo fatto questo in sostanza 5 giri di maglie basse. Adesso per questo decimo giro andiamo a lavorare così, una maglia alta, la prima la sostituiamo con le nostre 3 catenelle e poi andiamo a fare altre 3 catenelle, l'intervallo a 3 catenelle. Saltiamo una maglia bassa e sulla successiva andiamo a fare una maglia alta. Di nuovo 3 catenelle, di nuovo saltiamo una maglia e sulla successiva andiamo a fare una maglia alta. Quindi questa è la sequenza che dovete seguire per tutto il giro. Andiamo a chiudere con una maglia bassissima nella terza catenella. Adesso andiamo a ripetere quest'ultimo giro per altre 3 giri. Quindi siamo all'undicesimo giro, dobbiamo arrivare al tredicesimo giro. Sempre facendo una maglia alta, quindi 3 catenelle, un intervallo di 3 catenelle e poi maglia alta su maglia alta. Adesso è ancora più semplice perché è tutto ben segnato. 3 catenelle e di nuovo maglia alta su maglia alta. Quindi un totale di altri 3 giri. Quattordicesimo giro, intanto vedete quello che abbiamo dopo aver fatto i 3 giri. Adesso andiamo a lavorare nello spazio da 3 catenelle. Quindi ci spostiamo con una maglia bassissima e cosa lavoriamo in questo spazio? Lavoriamo 4 maglie alte, quindi 3 catenelle per partire e poi le nostre 3 maglie alte. E per superare la maglia alta del giro precedente facciamo una catenella. Quindi direttamente poi nel successivo spazio andiamo a fare altre 4 maglie alte e così ovviamente per tutto il giro. Per questo quindicesimo giro andiamo a ripetere il quattordicesimo, quindi il giro appena fatto. Semplicemente lavoriamo sulle maglie alte e le maglie alte e continuiamo a fare lo spazio da una catenella tra i due gruppetti di 4 maglie alte. Quindi facciamo le nostre 3 e 4 maglie, ripetiamo una catenella per spostarci sull'altro gruppo e lavorare di nuovo le altre 4 maglie. Ecco qua, vedete? Questa è la situazione alla fine di questo quindicesimo giro. Nel sedicesimo giro invece facciamo tutto un giro di maglie basse. Quindi una catenella, maglia bassa su tutte le maglie alte e maglia bassa anche nello spazio da una catenella. Quindi proprio un giro tutto liscio di maglie basse. Attenzione a questo filato che è composto appunto da più fili, quindi l'unica accortezza che dovete avere, quindi non è ritorto praticamente, dovete tenerlo bello teso, altrimenti si fa un po' fatica. Mettete sempre il marker, ve lo consiglio, quando facciamo le maglie basse e andate avanti così per tutto il giro. Per questo diciassettesimo giro prendiamo il riferimento, guardate, questi buchini qua sotto, diciamo così. Vedete questi spazi che si vedono qua sotto, prendiamo questi di riferimento. Quindi ci spostiamo con tante maglie bassissime fino ad arrivare al primo buchino, diciamo così. Dopodiché all'interno di questo primo buchino andiamo a lavorare quattro maglie alte. La prima la sostituiamo con tre catenelle e poi andiamo a fare le altre tre maglie alte. A questo punto andiamo a lavorare dieci catenelle. Saltiamo un buchino, il buchino successivo, saltiamo e andiamo nel successivo e lavoriamo una maglia bassa. Di nuovo facciamo dieci catenelle, di nuovo andiamo a saltare il buchino successivo e nel prossimo andiamo a lavorare invece il gruppetto da quattro maglie alte. Quindi avete capito che c'è questa sequenza tra gruppetti di maglie alte e invece una maglia bassa intervallate sempre da queste dieci. Quindi continuiamo, adesso facciamo la maglia bassa, quindi dieci catenelle, saltiamo il prossimo buchino e in quello successivo andiamo a fare la maglia bassa. Di nuovo dieci catenelle, saltiamo il prossimo buchino, vedete andremo a fare cosa? Le quattro maglie alte perché abbiamo questa sequenza da seguire per tutto il giro. Quindi nel prossimo caso, quindi fate riferimento a questi buchini, fate le dieci catenelle, adesso andiamo a fare nel prossimo gruppetto, nel prossimo buchino, saltandone uno, andiamo a fare le quattro maglie. Le quattro maglie alte, questa è la sequenza che dovete seguire naturalmente per tutto questo diciassettesimo giro. Facciamo le ultime dieci catenelle e chiudiamo direttamente ancorando con una maglia bassissima nella terza catenella. Adesso la situazione è la seguente, abbiamo praticamente questi dieci gruppi da quattro maglie alte che non sono altro che la base dei nostri cuoricini. Adesso andiamo a lavorare, quindi dobbiamo allargare un po' il nostro cuoricino in questa maniera. Sul primo maglia alta e sull'ultima andiamo a fare un aumento, quindi tre catenelle e un'altra maglia alta nello stesso punto. Mentre in ciascuno invece delle due maglie, quindi la seconda e la terza maglia alta del giro precedente, queste due andiamo a lavorare in ciascuna due maglie alte insieme. Quindi lavoriamo le prime due asole, rientriamo nel punto sempre per fare una maglia alta, lavoriamo le prime due e poi chiudiamo le tre asole insieme. E la stessa cosa la ripetiamo sulla terza maglia alta del giro precedente, quindi sulla maglia successiva. Mentre come abbiamo detto, sulla prima e sull'ultima andiamo a fare un aumento, quindi due maglie alte. Quindi abbiamo fatto un aumento sulla prima e sulla seconda e in quelle due e mezzo abbiamo lavorato due maglie alte insieme. Quindi questo è quello che dobbiamo lavorare sul gruppo ex gruppetto da quattro. Adesso ci spostiamo con cinque catenelle e andiamo a fare una maglia bassa nell'arco, vedete, nell'arco di catenelle del giro precedente. Di nuovo cinque catenelle e questa volta la maglia bassa la lavoriamo sulla maglia bassa del giro precedente. Cinque catenelle ancora, di nuovo una maglia bassa nell'arco e di nuovo cinque catenelle. A questo punto siamo di nuovo davanti, vedete, al nostro gruppetto da quattro. Vi ricordate? Facciamo un aumento subito nella prima maglia alta, quindi due maglie alte nella prima maglia alta. Due maglie alte lavorate insieme sia sulla seconda che sulla terza come abbiamo fatto qui, quindi andiamo a ripetere la stessa identica sequenza. Quindi due maglie alte lavorate insieme sulla seconda maglia alta e sulla terza maglia alta. E invece andiamo a lavorare un altro aumento sull'ultima maglia del gruppo da quattro. Eccoci qua. E abbiamo questo intervallo con gli archi, quindi cinque catenelle di nuovo, di nuovo nell'arco lavoriamo la maglia bassa, di nuovo lavoriamo cinque catenelle, questa volta nella maglia bassa facciamo una maglia bassa, di nuovo ci spostiamo con cinque catenelle per fare l'ultima maglia bassa nell'arco. Ultime cinque catenelle per arrivare di nuovo alla sequenza del gruppetto da quattro maglie alte, che è questa qui che abbiamo appena fatto, quindi dovete continuare questa sequenza per tutto il giro. Vi ricordo un aumento sulla prima e sull'ultima, in mezzo lavoriamo, su ciascuna delle due in mezzo, le due maglie alte insieme e poi questi archetti. Attenzione a questo diciannovesimo giro, stiamo per chiudere, per formare il nostro cuore, lavorando, abbiamo adesso sei maglie alte, lavorando tre maglie alte insieme, quindi alzate il lavoro con due catenelle che non contiamo, entrate nella prima maglia, lavorate solo le prime due asole, entrate nella seconda maglia, sempre prendendo il filo, ma chiudete solo le prime due e entrate anche nella terza. A questo punto poi chiudiamo tutte le asole. Tre catenelle e rientriamo, vedete, sempre nello stesso punto con una maglia bassissima. Avremo formato, vedete, questo archetto che è proprio mezzo cuore. Quindi adesso andiamo di nuovo nel punto successivo con una maglia bassissima, facciamo al contrario, no? Tre catenelle e adesso andiamo a lavorare questi tre punti con tre maglie alte lavorate insieme. Ed ecco qua il cuoricino, vedete? Si è formato il cuoricino. Adesso dobbiamo spostarci sempre con cinque catenelle, quindi qua rimangono le cinque catenelle per spostarci e andremo a lavorare sulla maglia bassa e il giro precedente invece una maglia alta. Quindi semplicissimo. Cinque catenelle, quindi andiamo a farle e andiamo a fare la nostra prima maglia alta sulla maglia bassa. Di nuovo cinque catenelle e di nuovo sulla maglia bassa andiamo a fare una maglia alta. E così via fino ad arrivare all'altro gruppetto da sei in cui formeremo il nostro secondo cuoricino. Eccoci qua, siamo di nuovo nel gruppetto da sei entro nella prima maglia alta non la completo entro anche nella seconda non la completo entro nella terza e dopodiché dopo aver lavorato le prime due asole chiudo tutto sempre tre catenelle e sempre vado ad ancorare nello stesso punto con una maglia bassissima. Vedete, nella maglia successiva maglia bassissima partiamo al contrario tre catenelle e vado a lavorare questi ultimi tre punti lavorando appunto tre maglie alte insieme e avremo così completato il nostro secondo cuoricino. Eccoci qua, vedete? Dobbiamo sempre intervallare con cinque catenelle e sempre andiamo a lavorare una maglia alta sopra ciascuna maglia bassa del giro precedente e poi di nuovo andiamo a fare tutti gli altri corricini nella stessa maniera. Abbiamo terminato con una maglia bassissima i nostri cuori adesso una catenella e una maglia bassa sulla prima punta del cuore diciamo così poi facciamo cinque catenelle e andiamo a lavorare un'altra maglia bassa vedete, sull'altro cuoricino. A questo punto andiamo a lavorare quattro maglie basse nell'arco, nello spazio da cinque catenelle e lavoriamo anche una maglia bassa nella maglia alta scusate del giro precedente. Di nuovo quattro maglie basse negli spazi più una maglia bassa sopra la maglia alta quando arrivate di nuovo successivo cuoricino una maglia bassa nel primo punto cinque catenelle tra un pezzo del cuore e l'altro e un'altra maglia bassa dopodiché riprendete normalmente a lavorare negli archi quattro maglie basse e una maglia bassa anche sopra la maglia alta del giro precedente e continuate così naturalmente per tutto il giro. adesso non faccio altro che fare un giro di maglie basse ma nell'arco di cinque catenelle tra i cuori insomma andiamo a fare anche qui quattro maglie basse come abbiamo fatto in precedenza dopodiché ci sono già le maglie basse marcate quindi fate maglia bassa su maglia bassa e ricordatevi appunto di mettere un marker quando lavorate con le maglie basse è sempre preferibile anche così per avere un colpo d'occhio sulla fine del giro e ricordatevi che nello spazio nelle cinque catenelle tra i due punte dei cuoricini dobbiamo lavorare quattro maglie basse ecco quello che abbiamo fino adesso con quest'ultimo giro di maglie basse abbiamo un diametro di circa vedete 41 centimetri più o meno ed è la parte della schiena a me è sufficiente quindi adesso andremo a fare le maniche in questo punto in questo punto qui in modo molto semplice dovete cercare di prendere una sorta di centro e da lì tirare giù circa 10 centimetri e ribaltare il lavoro perché avremo anche tutto una banda dietro quindi più o meno insomma cercate sui 10 centimetri di piegare il lavoro e quindi da qui partiranno le nostre maniche vedete tutto qui quindi mettiamo il marker in queste due pieghe in queste due prime pieghe e poi andremo a contare circa 20 centimetri di apertura da una parte in modo poi da contare le maglie basse che appunto servono quindi voi contate circa 20 centimetri posizionate il marker e andiamo poi a contare quante maglie basse sono d'intervallo diciamo 35 eccoci fermiamo qua 35 e posiziono il marker naturalmente comincio a contare dal marker rosso in giù altri 35 e posiziono l'altro marker e questo sarà lo spazio dove noi andremo a fare le maniche e questo sarà lo spazio delle maniche voi considerate che adesso noi andremo a fare un altro giro di maglie basse però quando arriveremo a questi marker faremo una serie di catenelle per creare appunto questo buco delle maniche delle maniche scusate quindi adesso andiamo a riprendere il nostro lavoro e andiamo a costituire le nostre maniche quindi andiamo a lavorare i successivi 25 punti con 25 maglie basse in sostanza lavoriamo fino ad arrivare al marker al primo marker se volete potete mettere anche un ulteriore marker all'inizio sapete con le maglie basse io lo preferisco sempre arrivati invece al nostro marker delle maniche semplicemente lo togliamo lavoriamo la maglia bassa dove abbiamo tolto il marker e adesso andiamo a lavorare 40 catenelle 40 catenelle naturalmente saltiamo tutte le maglie basse sottostanti e ci andiamo ad ancorare con una maglia bassa sul successivo marker quindi fatte le 40 catenelle togliamo l'altro marker e andiamo a fare una maglia bassa dopodiché naturalmente andiamo a proseguire maglia bassa su maglia bassa fino ad arrivare al successivo marker quindi lavoriamo tutto intorno fino ad arrivare appunto all'inizio della seconda manica ovvero qui guardate già che sfumature stanno venendo fuori meravigliose stessa identica cosa arriviamo al marker successivo lo togliamo lavoriamo la maglia bassa e andiamo a fare le 40 catenelle saltiamo tutto e andiamo a finire nell'altro marker poi ovviamente maglia bassa e concludiamo il giro lavorando anche le ultime maglie basse adesso andiamo a lavorare vedete abbiamo questi spazi da 40 catenelle che sono le nostre maniche adesso andiamo a lavorare in realtà ancora un altro giro di maglie basse e io questo lo faccio perché soprattutto nella parte delle maniche dove si tende sempre a tirare un pochino mi dà un'idea un po' più di stabilità quindi cosa dobbiamo fare di diverso dobbiamo solo una volta arrivati mi raccomando mettete il marker all'inizio non ci fanno le maglie basse è sempre meglio quando arriviamo nello spazio da 40 catenelle andremo a lavorare anche in queste una serie di maglie basse arrivati all'arco da 40 catenelle lavoriamo anche l'ultima e qui dentro andiamo a lavorare 55 maglie basse quindi 55 maglie basse e poi inutile vi faccio vedere ovviamente dall'altra parte fate lo stesso nell'arco 55 maglie basse e poi tutte le maglie basse intorno adesso attenzione io sono arrivata ad avere 275 maglie basse quindi ragionerò di 5 in 5 questo perché andremo a creare questa sorta di rete come questa che avete visto all'inizio anche qui tra l'altro metteremo subito il marker perché lavoreremo in tondo quindi facciamo tutto 5 praticamente 5 catenelle partiamo con 5 catenelle dopodiché saltiamo 4 maglie di base le 4 maglie basse successive e nella quinta entriamo con una maglia bassa e di nuovo 5 catenelle saltiamo 4 e sulla quinta andiamo a lavorare una maglia bassa però andiamo a mettere subito un marker nel primo arco lavorato perché poi andremo a lavorare altri 2 giri continuando in tondo quindi a lavorare direttamente nell'arco successivo e così via quindi non andiamo a chiudere il giro con una maglia bassissima quindi riprendiamo il lavoro 5 catenelle salto 4 nella quinta una maglia bassa e così via per tutto il giro faccio vedere però lo stesso alla fine di questo giro come fare per poi proseguire anche con gli altri due arrivati alla fine vedete siamo vicini al marker lo togliamo facciamo già le nostre 5 catenelle e le andiamo ad ancorare con una maglia bassa nel primo arco il primissimo arco fatto di nuovo 5 catenelle e maglia bassa nell'arco quindi questo giro ancora più semplice e il giro successivo lo fate i denti quindi avremo questi tre giri di diciamo di archetti quindi mi raccomando sul nuovo arco fatto andiamo a rimettere il marker così non perdiamo dov'è il giro iniziale quindi continuate questo giro e poi fate la stessa identica cosa per un altro giro quando siamo arrivati vedete alla fine abbiamo fatto questi tre giri siamo in questa situazione praticamente togliamo il marker e andiamo a lavorare direttamente nell'arco che ci troviamo davanti in questo ultimo arco qui andiamo a lavorare 5 maglie alte quindi nell'arco lavoriamo 5 maglie alte saltiamo tutto con 3 catenelle e di nuovo nel successivo arco andiamo a lavorare altre 5 maglie alte quindi questo 27esimo giro siamo arrivati molto semplice perché si tratta di lavorare negli archi 5 maglie alte intervallando con 3 catenelle facciamo facciamo le ultime 3 catenelle e poi andiamo a chiudere nella prima maglia alta lavorata sempre con una maglia bassissima adesso sempre nello spirito di ricreare un po' questa rete qua sotto andiamo a fare non 5 ma 6 catenelle facciamo 6 catenelle questo giro semplicissimo e andiamo a fare la maglia bassa direttamente nell'arco di 3 catenelle del giro precedente quindi maglia bassa e di nuovo 6 catenelle e nell'arco successivo di 3 catenelle maglia bassa e così via per tutto il giro finito finito il giro andiamo a costituire di nuovo un altro arco e continuiamo come abbiamo fatto in precedenza a fare altri due giri lavorando in tondo quindi vi consiglio di mettere sul primo arco nuovo fatto un marker in modo da ricordarvi il giro quindi facciamo questo altro giro e un altro giro ancora nella stessa maniera adesso attenzione perché chiudiamo leviamo il marker e chiudiamo con una maglia bassa poi ci posizioniamo quindi chiudiamo con una maglia bassa poi ci posizioniamo nell'arco questo successivo arco con una maglia bassissima e andiamo a lavorare qui dentro sette maglie alte quindi la prima la sostituiamo con tre catenelle poi lavoriamo le sei maglie alte e andiamo a lavorare diciamo sempre negli archi queste sette maglie alte tutte intervallandole con tre catenelle ecco qua adesso facciamo tre catenelle e andiamo a lavorare direttamente nell'arco successivo di nuovo sette maglie alte così per tutto il giro ed eccoci qua vedete quello che abbiamo fino adesso stiamo per lavorare in sostanza la terza parte questa è la parte centrale poi tutta la parte diciamo delle maniche adesso finiamo il lavoro facendo una serie di ventagli quindi attenzione qui abbiamo sette maglie alte vedete questo gruppetto a sette noi dobbiamo lavorare sulla maglia centrale ovvero sulla quarta e cosa andremo a lavorare qui dentro andremo a lavorare questo ventaglietto formato da sette maglie alte doppie la prima cosa che dobbiamo fare naturalmente è spostarci in questa quarta maglia alta dopodiché andremo a lavorare queste sette maglie alte doppie la prima in questo caso la sostituiamo con quattro catenelle quindi quattro catenelle e sei maglie alte doppie quindi dopodiché lavoriamo allora ricapitoliamo nelle sette maglie alte lavoriamo quella centrale nello spazio tre catenelle lavoriamo una maglia bassa e direttamente nella quarta maglia quindi nella maglia centrale del gruppo da sette andiamo a lavorare altre sette maglie alte doppie e poi nello spazio nuovamente nello spazio tre catenelle una maglia bassa quindi anche questo giro vedete che non è difficile concludiamo quindi le nostre sette maglie alte doppie e poi ci spostiamo avanti con facendo una maglia bassa nello spazio da tre catenelle ancora una ecco qua sette nello spazio tre catenelle una maglia bassa e di nuovo vedete tutto intorno proseguiamo quindi individuiamo quella centrale di maglia e andiamo a rifare le nostre sette maglie alte doppie e così via per tutto il giro chiudiamo con una maglia bassissima nella terza catenella ed ecco qua il nostro giro di ventagli il nostro trentaduesimo giro adesso andiamo a lavorare un giro di archetti quindi facciamo un giro di ventagli e un giro di archetti ci spostiamo nella maglia centrale quindi nella quarta maglia maglia alta doppia e andiamo a lavorare una catenella e una maglia bassa dopodiché lavoriamo sette catenelle e andiamo a lavorare nuovamente una maglia bassa nella quarta maglia alta doppia del ventaglio da sette quindi di nuovo sette catenelle maglia bassa nella maglia centrale del ventaglio e così via per tutto il giro e questo è il giro degli archetti abbiamo fatto invece prima il giro dei ventagli facciamo anche le ultime sette catenelle e andiamo a chiudere con una maglia bassissima nella prima maglia bassa lavorata adesso rifacciamo ancora un giro di ventagli molto semplice perché qui dove abbiamo la maglia bassa quindi nella maglia centrale andiamo a fare un altro ventaglio sempre formato da quattro maglie alte doppie mentre nel archetto che ci troviamo nello spazio che ci troviamo delle sette catenelle andremo a lavorare una maglia bassa quindi è molto semplice anche questo giro come vi dicevo dentro l'arco facciamo una maglia bassa e di nuovo ci spostiamo direttamente nella maglia bassa il giro precedente per fare altre sette maglie alte doppie bassa 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 E adesso di nuovo facciamo, ve lo faccio rivedere, un altro giro di archetti. Quindi dobbiamo spostarci nel ventaglio fino ad arrivare alla maglia centrale, ovvero alla quarta maglia alta doppia. Ci spostiamo con delle maglie bassissime. Una volta arrivati alla maglia centrale, alla quarta maglia alta doppia, dobbiamo lì fare una maglia bassa. Per fare la maglia bassa iniziale sempre una catenella e una maglia bassa. Dopodiché, facilissimo, 7 catenelle e andiamo a puntare nella successiva quarta maglia alta doppia del successivo ventaglio. E facciamo sempre la nostra maglia bassa. La sequenza che dovete fare per tutto il giro. Non solo per tutto il giro, dovete poi ripetere questi giri, vi conviene sempre mettere un marker per segnare le maglie basse. Quindi fate tutto il giro, chiudete qua dove c'è il marker, nella maglia bassa andrete a rifare il ventaglio. E poi di nuovo ancora un giro di archetti e un giro di ventagli. Perché dobbiamo avere praticamente alla fine quattro ventagli. Quindi dovete continuare a fare questi altri giri fino ad avere questi quattro ventagli. Ecco qua abbiamo i nostri quattro ventagli. Adesso dovremmo fare un altro giro di archetti con una variante e facciamo un piccolo aumento. Quindi prima cosa ci spostiamo nuovamente nella maglia centrale, quindi nella quarta maglia alta doppia, con una serie di maglie bassissime. Dopodiché facciamo la maglia bassa, quindi come abbiamo fatto fino adesso, fin qua è tutto uguale. Quindi una catenella, una maglia bassa. E invece di fare sette catenelle andiamo a farne nove. Ne facciamo nove, poi andiamo sempre a fare la nostra maglia bassa nella successiva quarta maglia alta doppia del ventaglio successivo. E così via per tutto il giro. Quindi non sette catenelle, ma un arco da nove catenelle. Giro finale, siamo arrivati proprio all'ultimissimo giro. Anziché fare sette maglie alte doppie, ne faremo nove. E andremo sempre a fare la nostra maglia bassa invece nell'arco da nove catenelle. Quindi tutto rimane invariato se non questo piccolo aumento per fare l'ultimissima rifinitura. Quindi quattro catenelle e ne facciamo altre otto maglie alte doppie. Una maglia bassa nell'arco da nove catenelle il giro precedente. E di nuovo nella maglia bassa andiamo a fare nove maglie alte doppie. E così per tutto il giro. Abbiamo terminato, ho chiuso ovviamente, ormai non lo dico neanche più nella terza catenella, anzi nella quarta. E adesso andiamo a chiudere, ancorare con un odino di sicurezza e naturalmente a sistemare questi piccoli due fili. Intanto vi voglio far vedere la meraviglia di sfumature di questo filato. Non riesco a inquadrare tutto però piano piano lo vedete. Poi avete visto già le immagini all'inizio e le vedrete anche alla fine. Quindi munitevi di ago, naturalmente fate passare il filo sul retro della lavorazione e cercatevi il punto, andate piano piano a cercarvi il punto dove la lavorazione si fa un po' più fitta per nascondere tutti questi fili. A presto. A presto. A presto. A presto. Adesso per invece fare quel ricciolino che avete visto all'inizio, se non volete mettere il nastro, non l'avete, e dovete fare semplicemente, io nel mio caso farò sempre con lo stesso filato, 100 catenelle. Fatte le 100 catenelle, sulla terza a partire dall'uncinetto andiamo a lavorare due mezze maglie alte. E in sostanza continuiamo a lavorare tre mezze maglie alte su ciascuna catenella, in questo modo il lavoro si arriccerà naturalmente. Quindi andate avanti a lavorare tre mezze maglie alte su ciascuna catenella fino alla fine. Alla fine vedete si creerà tutto questo ricciolone, non so come chiamarlo, che con l'aiuto anche delle mani dovete cercare di girarlo. di, diciamo, di dargli una forma omogenea perché si girerà da solo, però dovete cercare un pochino di aiutare questo giro. Ovviamente tagliate il filo, ovviamente ancorate con un nodino di sicurezza e basterà semplicemente tagliare il filato. Quindi piano piano girate, date, cioè seguite la forma, insomma, di questo filo. Se non vi piace invece questa soluzione e volete qualche cosina un pochino più brillante, vi consiglio di mettere un nastro come avete visto. Adesso vi mando le immagini di nuovo così vedete l'effetto sul manichino. Questo è con il twist, diciamo così, e invece questo è con il nastro. Questo è un po' a gusto vostro anche in base, insomma, alla fantasia che avete scelto. Diciamo che questa è una taglia SM e che ha usato un solo gomitolo che però ricordo essere di 150 grammi, è il gomitolo primavera. Che vi invito veramente a cliccare nell'info box e vedere le sfumature. Ci sono questi piccoli cuoricini per le più romantiche, quali sono io tra l'altro, quindi ho potuto fare anche un regalo a me. E poi, insomma, vedete voi stessi che belle sfumature ha questo magnifico filato. Che è composto per un 55% di cotone e il rimanente 45% di microfibra. Ecco, tanto per dirvi anche due parole in più su questo meraviglioso filato. Io adesso vi lascio ovviamente all'hand card come al solito e naturalmente vi aspetto al prossimo video. Ciao! Allora, se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, mettete un bel mi piace così ne ho la percezione. Naturalmente iscrivetevi se non vi siete iscritti per non perdere nessun aggiornamento. Tutti i link dei social sono nell'info box e vi invito a seguirmi sempre di più, ma lo state facendo già, su anche tutti gli altri social. Perché è lì che pubblico qualcosina, diciamo, un po' più privato e soprattutto qualche anticipazione magari dei prossimi tutorial. Io ovviamente vi ringrazio tanto per i commenti, per i complimenti che mi fate sempre, anche per i messaggi privati che mi mandate. Continuate, continuate a mandarmi i vostri lavori con i miei tutorial, mi fa tantissimo piacere e naturalmente vi aspetto al prossimo video. Ciao!